Salve a tutti e benvenuti a questa edizione di LifeWave Connect sul prodotto di agosto, siamo molto felici di avervi qui con noi, grazie per esservi collegati con noi e imparare qualcosa di più sul glutatione. Stasera un argomento interessante, prima di fare entrare David, volevo semplicemente ricordarvi che abbiamo una parte dedicata alle domande e alle risposte qui in fondo allo Zoom e scrivete le vostre domande e alla fine dedicheremo del tempo per rispondere ad alcune delle domande, quindi senza induggiare. David, sei con noi? Sì Jeff, come stai? Io sto bene, tu? Fantastico, io vorrei iniziare ringraziando tutti i nostri brand partner a livello globale, come sai abbiamo appena concluso il mese delle vendite più grandi nella storia di LifeWave, quindi abbiamo molto da festeggiare ogni volta che vediamo i numeri delle vendite dei prodotti LifeWave, vuol dire che stiamo aiutando molte persone e questo numero sta crescendo, vorrei ringraziare la leadership e il brand partner per portare questo successo fenomenale, penso sia importante iniziare dicendo queste cose. Sì, è un momento molto speciale, si può sentire qualcosa di incredibile che sta succedendo, si può sentire la tua gratitudine negli uffici, l'ho sentita questa mattina, siamo così grati a tutti i brand partner per i successi che stiamo raccogliendo. E oggi parleremo del glutatione, questo è un argomento che cade a fagiolo perché le persone stanno facendo la pausa estiva, vanno in vacanza, prendono il sole, vogliono sapere cosa devono fare per proteggere la loro pelle dal danno solare, ridurre l'apparenza delle rughe e migliorare la loro salute generale. Quindi questo è un argomento di cui è bene parlare in questo momento, sì lo so, io sto andando in vacanza fra un paio di giorni, anche se vado in Irlanda, io non so se vedrò molto sole, ma sicuramente il glutatione è qualcosa che devo portare con me anche perché prenderò l'aereo. Quindi David, hai detto che parleremo appunto dei benefici che ha il glutatione per la salute della pelle, sì, parleremo dei benefici per le persone che sono nuove, quindi farò una breve introduzione al glutatione, di cui abbiamo già parlato spesso nel passato, ma farò una panoramica e poi parlerò dei benefici del glutatione per la pelle, esamineremo alcuni studi clinici. Io come sorpresa speciale vorrei parlare della relazione che c'è tra il glutatione e le cellule staminali, non è un qualcosa di cui abbiamo già parlato prima, c'è nuova letteratura, e X39 chiaramente è il nostro prodotto star, ho pensato che potrebbe essere buono per i nuovi brand partner che usare i cerotti di X39 glutatione, quali sono i benefici che si possono aspettare, come si complementano e ne parleremo di questo. E chiaramente dedicheremo anche del tempo a rispondere alle domande, penso che spenderemo un'ora molto interessante, sì, sono molto contento, questa è una sorpresa anche per me, quindi ho la penna, il foglio per prendere appunti, quindi iniziamo. Bene, vediamo. Allora, iniziamo da qui. Bene, innanzitutto c'è... Ci sono moltissime risorse che sono disponibili in internet che riguardano il glutatione. Beh, è importante ricordare che questi studi clinici di cui parlerò, iniezioni di glutatione, glutatione per viendo venosa, integrazione con il glutatione sotto forma di NAC, cisteina, che è un aminoacido, ci sono molti modi per aumentare il glutatione, di cui parlerò, e in particolare, se siete una persona vegana o vegetariana, io raccomando vivamente di supplementare con la cisteina, che è un aminoacido, che è un precursore del NAC, o il sulforofano che si trova nei broccoli, per assicurarsi di ottenere abbastanza cisteina, quindi per avere gli elementi fondamentali per produrre il glutatione. Quello che bisogna sapere è che se prendete una pillola di glutatione o qualsiasi integratore di cisteina, in 30 giorni otterrete un aumento relativo del glutatione, i vantaggi del cerotto è che c'è una stimolazione molto leggera del glutatione per aumentare i livelli di glutatione molto velocemente, quindi c'è una grande differenza tra l'integrazione e l'uso del cerotto, ma se non avete abbastanza cisteina nella dieta integrale con NAC, sarebbe una cosa buona, perché è il precursore per produrre il glutatione e poi il cerotto fare il resto. Questa è una buona referenza, ho rivisto questa referenza prima che fornisce un quadro generale di ciò che è il glutatione, ma per poter produrre il glutatione nel corpo, oltre alla cisteina, è necessaria la gliceina e l'acido glutamico. Noi non parliamo dell'acido glutamico perché è qualcosa che produce il corpo, ma la gliceina è dimostrato da alcuni stati che supplementare soltanto con la gliceina può aumentare la durata della vita del 20%, e questo è veramente straordinario. Diciamo che voi siete in America, Jack Lerlane, che aveva 98-99 anni, aveva una salute perfetta perché non ha mai preso zuccheri artificiali, faceva esercizio, mangiava bene e integrava la sua alimentazione. Immaginate di poter vivere altri 20 anni oltre alla durata della vita normale con l'integrazione di aminoacidi. Quindi la gliceina è una parte importante del glutatione e del GHK, che è il peptide, che aumenta i X39. Quindi sono sicuro che non sia una coincidenza. Ad ogni modo, questo dimostro ci fornisce un quadro generale di ciò che è il glutatione che viene prodotto dal corpo umano. È molto importante capire che il glutatione si trova in tutto il corpo umano. L'indogeno è un antiossidante naturale che viene prodotto dal fegato, quindi c'è un'alta concentrazione nel fegato. Ed è interessante anche sapere che il fegato è l'organo più rigenerativo del corpo umano. Quindi dovremmo fare attenzione, per esempio il glutatione e il GHK sono in alta concentrazione nel fegato e il fegato si rigenera meglio di altri organi del corpo. C'è una relazione tra queste due cose e la risposta è infatti sì, esiste una relazione. Infatti il glutatione svolge uno ruolo nel proteggere le attività delle cellule staminali del corpo, ne parleremo poi più nel dettaglio tra un po'. Ma fondamentalmente il modo in cui funziona il glutatione nel corpo, visto che si trova nel fegato, e per questo motivo aiuta la disintossicazione di metalli pesanti come il mercurio, aiuta a gestire l'infiammazione. Adesso l'infiammazione è una cosa positiva nel senso che abbiamo bisogno di marcatori infiammatori per ridurre l'infiammazione nel tessuto danneggiato. Quando c'è un'infiammazione cronica, come per esempio l'artrite, quindi abbiamo bisogno di antiossidanti come il glutatione per controllare i marcatori infiammatori. Il glutatione è l'antiossidente principale che si trova anche nell'udito, nelle orecchie, protegge il nostro udito. Una delle cose che controllava molto l'esercito statunitense era la perdita di udito dei soldati. Con l'integrazione del glutatione si può proteggere l'udito e evitare la perdita di udito. Noi non stiamo facendo delle affermazioni mediche sui ceroti, sono un prodotto di salute generale, aiutano alla salute in generale. Normalmente il glutatione si somministra per via endovenosa o con un'integrazione. Noi non stiamo facendo delle affermazioni mediche, ma è importante sapere che il glutatione si trova in tutto il corpo e che può proteggere il nostro udito e anche i nostri occhi, quindi la nostra vista. Bene, adesso passiamo a quest'altra pagina qui. Un'altra cosa che vi suggerirei di fare è di cercare online, una ricerca molto semplice, i benefici del glutatione. Troverete una serie di referenze come questa che forniscono una panoramica molto interessante. Io mi ricordo che più di vent'anni fa oramai io non conoscevo il glutatione, non avevo mai sentito parlare ed ero veramente sorpreso quando mi sono laureato in biologia che non se ne parlasse più nel dettaglio, che non si presentesse in considerazione. Ho incontrato un medico a New York che studiava questo nel 2003, quindi studiava l'uso del glutatione per la salute umana e anche la salute della pelle. E' stato considerato appunto un'antiossidante incredibile. Quindi il glutatione è usato e non è una sorpresa perché l'antiossidante principale del nostro corpo aiuta a risolvere vari problemi. Per esempio il Parkinson, lo prendo come esempio, quando le persone soffrono di Parkinson, questo è il risultato del danno dello strato di mielina che protegge i nervi. Ed è stato scoperto che il glutatione protegge lo strato di mielina e evita il danno. I dottori adesso, quello che stanno vedendo nella loro clinica, se somministrano glutatione per via endovenosa ai loro pazienti, potranno limitare, frenare la progressione della malattia e potranno anche invertire i sintomi del Parkinson. Io non sto dicendo che lo fanno anche i cerotti, ma se soffrite di Parkinson, io vi rischio di andare dal vostro medico e di chiedere di farvi fare una flebbo di glutatione una o due volte alla settimana. È così potente questo antiossidante naturale. È anche interessante sapere che il glutatione e la vitamina C lavorano insieme, quindi in poche parole, se voi prendete un integratore di vitamina C può complementare il glutatione per aiutare a mantenere i livelli di glutatione nel vostro corpo. Quindi perché bisognerebbe usare il glutatione, i cerotti di glutatione, quando parliamo del benessere generale e della salute in generale? Una delle cose che è stata già stabilita da molti studi sul glutatione è che è strettamente correlato all'invecchiamento. Persone che vivono più della media, che vivono più di cent'anni, per esempio, normalmente hanno livelli di glutatione più alti. Quindi spesso si dice che i livelli di glutatione del corpo stabiliscono la lunghezza della vostra vita e della vostra salute. Questa è una ragione eccellente per avere abbastanza cisteina, usare i cerotti per mantenere i livelli di glutatione a livelli ottimali. Questo è uno studio molto interessante. Alla fine dei 2000, quando abbiamo iniziato a fare delle riunioni nelle Filippine, una delle cose che abbiamo visto è che le persone li usavano, gli integratori di glutatione, per schiarire la pelle. Infatti ci sono vari studi che indicano che il glutatione ha un effetto, esercita un effetto che schiarisce il colore della pelle. Probabilmente è ancora più importante il fatto che il glutatione rende l'apparenza della pelle migliore. Forse avrete già sentito parlare di questi benefici del glutatione. Infatti ci sono tre studi che ho visto, che ho letto e che dicono che in effetti sia così. Quando parliamo della pelle, dovremmo pensare alla filosofia del nostro sistema alla vita. Noi non soltanto vogliamo vari prodotti per la pelle, vari ingredienti come la vitamina C che proteggono la pelle, che aiutano a mantenere l'idratata, usano oli naturali. Ma vogliamo anche migliorare la pelle da dentro a fuori. Quindi quando usiamo questi prodotti, la pelle migliorerà come conseguenza. E per questo è importante seguire una dieta corretta, fare esercizio, bere molta acqua e evitare cose come fumare o bere troppo, che sono cose che avranno un effetto avverso sulla pelle. Per esempio, per avere una pelle sana, normalmente le persone si riferiscono al fatto di evitare le rughe, di ridurre le rughe. Infatti c'è una relazione tra i livelli di glutatione e il collagene. Quindi questo studio dimostra infatti che se possiamo mantenere i livelli di glutatione alti, questo aiuterà a formare un nuovo collagene. Il collagene è la proteina più abbondante del corpo ed è la proteina che è associata alla salute della pelle. Possiamo quindi migliorare la salute della pelle e ridurre l'apparenza delle rughe. Quindi i livelli alti di glutatione hanno questo effetto. Il collagene è un precursore della cartilagine. Abbiamo lavorato una volta con Bonnie Freelander, un dottore della California. Lui usava integratori di collagene insieme alla vitamina C e al glutatione per rigenerare la cartilagine perduta, diciamo, nei giocatori di futbol americano o professionisti. Bene, qui questo è un altro studio. che dice aumentare i livelli di glutatione. In questo caso, che cosa succede? Ecco, i livelli di cestina diminuiscono nel corpo. L'effetto che ha sul collagene, i fibroblasti che producono collagene, se noi integriamo con NACA avremo abbastanza glicina anche consumando prodotti come il latte, le vuova e possiamo quindi mantenere i livelli di glutatione e quindi aumenta anche la produzione di collagene. Quindi c'è molta letteratura che riguarda i livelli, che associa i livelli di glutatione al collagene e visto che il collagene è la proteina più abbondante del corpo, formerà le impalcature di altre cose che si attaccheranno al collagene. Questa è un'altra cosa importante, se una persona ha una ferita aperta. Per esempio, la neuropatia diabetica, quando i livelli di zucchero sono alti, questo causa una glicazione, una cattiva circolazione e quindi si formano delle ferite, delle ulcere e quindi bisogna seguire un trattamento per chiudere queste ferite. Quindi quando c'è un aumento di ossido nitrico e glutatione, penso che sia interessante perché c'è un feedback positivo e negativo nel mitocondrio nella catena di trasporto con l'ossido nitrico e il glutatione e questo ci aiuta a invertire l'invecchiamento, usiamo appunto la segnalazione dell'ossido nitrico e del glutatione. Quindi se avete una ferita da molto tempo, una ferita che non si rimargina, una delle cose da considerare, da vedere se la dieta è corretta, se i livelli di glutatione sono alti, perché il glutatione formerà collagene e questo porterà a curare le ferite, e questo è chiaramente molto importante. Bene. E visto che siamo in estate, molti di voi si spera che potranno prendere il sole e quindi abbronzarsi, la melanina è un antiossidante. C'è una ricerca molto interessante sull'ulto della melanina per aumentare la presenza mentale. Comunque se prendete il sole e i livelli di vitamina C diminuiscono molto velocemente in 15 minuti per il sole, questo è un meccanismo che porta alla formazione di melanina per proteggerci dai danni del sole. Noi spesso, per esempio, pensiamo al cancro della pelle causato dal sole. Questo è uno studio sull'integrazione con glutatione, quindi io non sto parlando in questo caso dei cerotti, ma quello che voglio dire è che se prenderete il sole e volete proteggere la pelle, i due cerotti che possono andare bene sono X39 e glutatione, che sono i precursori importanti sono la cisteina e il rame. Quindi fondamentalmente vi sto dicendo di integrare con il rame 3 mg al giorno e con NAC 600 mg due volte al giorno e gli studi dimostrano che se mantenete alti livelli di glutatione proteggerete il vostro DNA da eventuali danni perché se il DNA viene danneggiato il glutatione inizierà un meccanismo di riparazione del DNA prima che le cellule si dividano. Quindi questo è un beneficio incredibile, fondamentale del glutatione che molte persone non conoscono. Io ricordo di aver letto uno studio alcuni anni fa e ho scoperto questi benefici del glutatione ed era veramente incredibile. Un'area di ricerca potenziale per coloro che sono dottori che penso che sarebbe il caso di portare avanti è per esempio quando una donna è incinta e se c'è una diagnosi precoce e si scopre che il bambino ha la sindrome di Down come esempio la mia ipotesi sarebbe che somministrando flebbo o di glutatione alla donna potrebbero riparare si potrebbe riparare il DNA della donna della mamma e autocorreggere il DNA del bambino prima che nasca. Io ho dei motivi validi per dirlo come ipotesi motivi di cui non parlerò ma penso che potrebbe essere un'area di ricerca molto interessante. Bene quindi il glutatione migliora la pigmentazione della pelle le rughe beh questo è un qualcosa che penso che potrebbe interessare a molte persone per coloro che siamo abbastanza fortunati di avere una buona salute non avere malattie potremmo mantenere i livelli di glutatione avere un buon sistema immunitario c'è uno studio che è stato fatto per dieci settimane molto importante questo è stato fatto con un'applicazione topica di glutatione ma qui potete vedere qui alcuni dei benefici incredibili come la riduzione delle rughe miglioramento significativo grazie a una lozione di glutatione c'è un altro studio che dimostra che l'integrazione di glutatione ha gli stessi effetti riduce dell'apparenza delle rughe quindi da un punto di vista cosmetico non ho niente da dire sul fatto che le persone vogliono meno rughe ma visto che il collagene è la proteina principale del corpo questo significa anche che la pelle indica qual è lo stato del nostro collagene nel nostro corpo e questo è importante perché i livelli di collagene sono strettamente correlati alla salute della pelle visto che il collagene è lo scheletro delle cellule l'impalcatura delle cellule acquisita con altre cose se il collagene si rompe nel tempo per effetto dell'invecchiamento le cellule iniziano a rimpicciolirsi non possono contenere abbastanza acqua e questo cambia il potenziale elettrico intorno alle cellule ha degli effetti avversi sull'espressione igienica per una serie di motivi e le cellule non si potranno disintossicare c'è una disfunzione del mitocondrio quando le cellule si rimpiccioliscono quindi questo è un attributo molto importante del nostro corpo quindi in poche parole quando usate il glutatione quando voglio soltanto ridurre le rughe per esempio c'è un indicatore dei vostri livelli di collagene o della capacità di produrre il collagene e di usarlo per mantenere la salute in generale se la salute della vostra pelle non è buona la vostra pelle non ha una buona salute la struttura di collagene nelle vostre cellule non sarà ottima quindi bisogna pensare a come ripristinare il collagene e questo richiede un'integrazione con glutatione o X39 cerotti glutatione prendere vitamina C o proteine di collagene a breve termine ci sono molte cose che si possono fare per riavere i livelli di collagene è veramente importante per la salute della pelle e X39 è il nostro prodotto principale perché ci sono tante cose interessanti di X39 infatti abbiamo visto che aumentare i livelli del ptite di rame può preservare i livelli di glutatione questo è uno studio originale che vi ho fatto io su X39 che è nel nostro sito web i livelli di glutatione sono aumentati del 30-40% e questo è ottimo il cerotto di glutatione aumenta il glutatione del 300% quindi io direi di iniziare con X39 perché fa molto ma se volete complementarlo con il cerotto di glutatione sicuramente potete farlo ma indipendentemente da questo qui c'è uno studio appena uscito nel 2023 che riguarda gli effetti del glutatione sulle cellule staminali e il glutatione ringiovanisce le vecchie cellule staminali e soprattutto le cellule staminali dei muscoli vecchi se siete venuti a uno dei nostri eventi in presenza a proposito ci sarà un evento alla nostra convention in ottobre che sarà fenomenale questo questo è un qualcosa di cui ho parlato ho mostrato l'evidenza con altre tecniche usando per esempio l'ossitocina per invertire l'età dei muscoli usando prodotti come X49 per attivare le cellule staminali e le satellite nei muscoli per mantenere la massa muscolare man mano che invecchiamo la cosa importante che quando invecchiamo diciamo che avete più di 60 anni e iniziate a notare che avete perso massa muscolare avete atrofia avete perso anche massa ossea e volete risolvere questo parlate con il vostro dottore iniziate un programma fate una buona dieta che è molto importante fate anche esercizi di resistenza resistenza non prendete peso è molto importante fare esercizio ma se avete più di 60 anni iniziate appunto questo programma la qualità dei muscoli che produrrete non sarà così buona come quella che avevate quando eravate giovani e quindi che cosa possiamo fare bene questo studio dimostra che riprisinare i livelli di glutatione abbiamo visto un altro studio anche sullo sito Cina con GKK si ringiovanisce la massa muscolare vecchia e le fibre muscolari iniziano a comportarsi come se fossero giovani quindi un altro beneficio del glutatione di cui non abbiamo parlato prima bene qui c'è un altro studio che dimostra la correlazione tra il glutatione e la funzione delle cellule staminali sapete ci sono varie tecniche diagnostiche per controllare l'utilizzo delle proteine il glutatione parlando della longevità e come possiamo invertire l'invecchiamento questi strumenti diagnostici sono molto importanti per esempio l'MTOR quando pensiamo a come conservare la massa muscolare molti ricercatori oggigiorno pensano che il modo migliore per rimanere più giovani più a lungo è una limitazione una restrizione delle calorie e chiaramente questo è molto difficile per alcune persone e si parla appunto dell'MTOR avere abbastanza leucina e MTOR per indurre la sintesi delle proteine ci sono diagnosi che possiamo fare quindi è importante distinguere tra la stimolazione acuta e cronica dell'MTOR e anche la gestione dello stress ossidativo è importante da prendere in considerazione quindi i livelli alti di glutatione aiutano a gestire lo stress ossidativo e quindi possiamo mantenere in questo modo la nostra massa muscolare sana questo è un altro studio che i livelli alti di glutatione servono per mantenere la funzione delle cellule staminali quindi mi incoraggio di prendere un integratore di glutatione o di seguire una dieta con abbastanza cisteina NAC qui c'è uno studio che dice che il glutatione è così importante per le cellule staminali per il corretto funzionamento delle cellule staminali e infine visto che tutti i nostri prodotti noi abbiamo più di 80 studi che dimostrano che i nostri cerotti fanno quello che dicono qui c'è uno studio che abbiamo fatto con Lisa Torrey la dottoressa Lisa Torrey che dimostrano che l'uso dei nostri cerotti hanno aumentato i livelli di glutatione questo è un altro studio molto interessante che abbiamo fatto il dottor Nasren e Sherry Greenberg usando una tecnica una tecnica speciale lo scanning interseziale elettrico che dimostra che glutatione ha un effetto sulle proprietà elettriche sulla risposta fisiologica degli organi e questo studio è stato pubblicato e ha dimostrato di avere un significato statistico un'importanza statistica Jeff io in sintesi direi che il glutatione è un antiossidante molto semplice ed è proprio la sua semplicità che gli conferisce il suo potere quindi è costituito da tre aminoacidi quando abbiamo questi tre aminoacidi nel corpo il nostro corpo ha l'abilità di produrre il glutatione è un po' più complesso di questo ma il glutatione è così importante che è correlato alla lunghezza della nostra vita alla salute la nostra salute e il modo in cui ci curiamo questo è collegato alle funzioni delle cellule staminali della capacità di proteggere il DNA dal danno di proteggere il nostro sistema immunitario ed è quello che è straordinario è che continuiamo ad imparare su cose su questo antiossidante così semplice sui grandissimi effetti io lo conosco da decenni lo conosciamo da decenni ma stiamo ancora imparando molte cose sul ruolo importante che svolge per la salute umana è incredibile un beneficio dopo l'altro il cerotto di glutatione è uno dei miei favoriti lo è veramente e qui ci sono un sacco di domande abbiamo tempo per rispondere alle domande hai detto varie volte nella tua presentazione ma molte persone fanno questa domanda può chiarire e dirci qual è il supplemento corretto da prendere per aumentare il livello di glutatione o quelle cose che dovremmo mangiare e dovremmo bere per avere più livelli di glutatione più alti allora le persone che che consumano latte formaggio uova otterranno abbastanza cisteina nella loro dieta la carne è anche abbastanza cisteina ma le persone oggi cercano alternative alla carne che io non raccomando e ci sono altre persone che per altri motivi vogliono essere vegani o vegetariani che va bene nulla incontro ma tutti noi indipendentemente dalla nostra dieta dobbiamo pensare se otteniamo tutti i nutrienti per ottimizzare la nostra salute quindi per me uno dei motivi importanti per prendere integratori come il NAC è che interferisce con la capacità del virus della covid a replicarsi e di alleviare un po' i sindomi quindi anche se la pandemia è finita ma il covid è ancora in giro e forse ci sono anche altri virus che arriveranno prendere il NAC che è qualcosa di poco costruito costoso e disponibile sicuro esiste da 1960 come integratore aiuterà a mantenere alti livelli di glutazione un altro modo è il sulfurofano che si trova nei broccoli è molto potente perché attiva NERF2 che attiva non soltanto il glutazione ma anche un altro antiossidante molto importante che si chiama SOD quindi entrambi questi integratori sono buoni noi non stiamo appoggiando nessun marchio in particolare ce ne sono tanti sul mercato per la risposta che che marchio dovremmo usare sì se si usa un marchio conosciuto va benissimo un'altra cosa che vorrei dire che è un po' il segno dei nostri tempi è che due paesi nel mondo adesso sono stati i primi paesi dove le autorità della salute hanno approvato l'uso della carne coltivata uno in Singapore e un altro negli Stati Uniti uno in Singapore e l'altro negli Stati Uniti quindi questa proteina del pollo che viene allevata in un bioreattore per capire un po' l'enormità di questo fatto è che prendono le cellule staminali dei polli le modificano egeticamente e poi le fanno riprodurre con una proteina e usano un mix di olio di mais e olio di soia per far crescere queste cellule staminali che sono molto alti in grassi polisaturati che sono molto infiammatori noi abbiamo bisogno di questi acidi di questi acidi grassi ma questi verranno etichettati come pollo ma non c'è non c'è diciamo non è richiesto dal punto di vista legale di etichettarli come carne falsa la cosa buona è che è molto costosa questa carne e ci sono soltanto due ristoranti negli Stati Uniti che inizieranno a servire questa carne entrambi sono dei ristoranti con stelle Michelin ma questa è una cosa che dobbiamo sapere una volta io una persona dice io mangio abbastanza salmone salutare selvaggio quindi negli Stati Uniti viene allevato nelle piscifattorie e mangia mais geneticamente modificato quindi non avrà degli acidi grassi elevati quindi dobbiamo essere consapevoli di quello che mangiamo dobbiamo continuare a farci domande su quello che mangiamo e integrare quando è necessario cose incredibili bene ci sono anche domande logistiche una persona chiede c'è un vantaggio ad indossare più di un cerotto glutatione o si ottengono dei risultati migliori o più veloci allora ci sono alcuni cerotti che se si indossano più di uno può dare dei benefici specifici l'energy per esempio uno sulla parte anteriore del busto o posteriore del busto con x39 un cerotto è sufficiente carnosina un cerotto è sufficiente il caso del gluteatione invece è interessante perché in uno studio clinico le persone usano soltanto un cerotto di gluteatione e vedono questo risultato con un solo cerotto più di un cerotto di gluteatione è stato usato da alcuni dei nostri brand partner per ottenere altri benefici di cui non posso parlare quello che voglio dire comunque è che io non viaggierei non andrei da nessuna parte del mondo senza una confezione di cerotto di gluteatione perché mi ha salvato la vita in più di un'occasione quindi io posso usare fino a tre cerotti contemporaneamente per delle ragioni molto specifiche alcuni membri di Life Wave che sono con noi da molti anni e sanno a chi mi riferisco ma non possiamo fare delle affermazioni mediche quindi usare un solo cerotto di gluteatione e si otterranno buoni risultati per quanto riguarda il posto dove mettere i cerotti allora per l'uso generale applicare dietro il collo sotto l'ombelico va benissimo ma visto che il gluteatione aiuta alla riduzione dello stress ossidativo infiammatorio applicare dove è necessario diciamo che una persona ha una ferita e vuole che si curi naturalmente si sono fatti un taglio sul ginocchio c'è infiammazione possono applicare il cerotto di gluteatione direttamente intorno al ginocchio se una persona ha mal di gola per esempio la gola infiammata può applicare il cerotto qui qui o qui e tre cerotti possono aiutare a ridurre l'infiammazione e a migliorare la salute in generale bene bene c'è un'altra domanda c'è un modo semplice per misurare i livelli di gluteatione per una persona ci sono dei test che si possono fare per misurare i livelli di gluteatione è veramente difficile noi abbiamo abbiamo avuto grossi problemi con i laboratori per misurare il gluteatione e uno dei motivi è perché il gluteatione è così instabile ha un'emivita di sette minuti se a meno che il laboratorio sappia conservare il gluteatione possa aggiungere dei conservanti o congelarlo allora si lo può fare ma io quello che dico alle persone di esaminare i metalli pesanti invece di fare un test un analisi del sangue fare un analisi delle urine un test dei metalli pesanti poi indossare di nuovo un cerotto e fare un altro test e questo si può misurare in questo modo i livelli dei metalli pesanti quindi si fa questo test dopo 24 ore è anche un test molto economico una persona sta chiedendo in generale per il gluteatione si può avere troppo gluteatione fortunatamente no il corpo umano regola le cose quindi se i vostri livelli di gluteatione aumentano il corpo spegne la protezione di gluteatione finché non arriva a un livello normale questo l'abbiamo visto negli ormoni per esempio gli uomini c'è un rilascio della luteina nei test e questo ormone rilascio di testosterone nei test e visto e quando aumentano i livelli di testosterone sono troppi allora c'è un processo che fa sì che diminuiscano anche la melatonina i livelli di melatonina quando arrivano a un picco e quando il livello aumenta gli stimoli spengono e fanno sì che si riduca i livelli di melatonina e come raccomandazione per quanto riguarda i cerotti di gluteatione bisogna indossarli ogni giorno quando è necessario di tanto in tanto che cosa dici sull'uso generale dei cerotti allora io direi dipende dal motivo per cui si usano se avete abbastanza cisteina attraverso l'alimentazione usate x39 tutti i giorni va bene ma se volete di stare in un processo di risoluzione una volta al mese una volta alla settimana un uso possibile con x39 tutti i giorni per una settimana o usarlo una o due volte alla settimana regolarmente alternarlo con altri cerotti quindi ci sono tanti modi di usarlo un'altra cosa che vorrei dire è che le persone che hanno condizioni croniche possono usare x39 ione glutatione tutti i giorni per gestire i sintomi quindi veramente dipende se parliamo di una persona che non ha problemi di salute persone come atleti che hanno maggiore bisogno di glutatione persone che non sono atleti diversi appunto persone che non sono atleti professionisti quindi dipende dalle persone siamo un'altra domanda non abbiamo mai abbastanza tempo david è vero abbiamo parlato molto della pelle c'è una sovrapposizione degli effetti di alavide glutatione come dovrebbero essere indossati questi due cerotti allora innanzitutto si tratta di peptidi diversi alavide è stato progettato per aumentare l'epitelamina l'epitelamina riduce lo stress ossidativa e sappiamo che il glutatione gestisce lo stress infiammatorio e si complementano l'epitelamina a benefici diversi da quelli del glutatione quindi io direi che la differenza più grande tra questi due cerotti è che alla vita si usa preferibilmente la sera il glutatione invece va usato durante il giorno è perché l'effetto disintossicante del glutatione è così forte che se le persone lo usano la sera poi si svegliano dopo con mal di testa perché il sistema linfatico è rimasto bloccato quindi io non consiglio l'uso del glutatione la sera e invece suggerisco alle persone di usarlo piuttosto durante il giorno e poi chiaramente di bere moltissima acqua sì moltissima acqua bisogna essere idratati forse abbiamo tempo per un'altra domanda o due domande il glutatione e l'ion è una buona combinazione e se lo è quali sono i benefici che possono avere questi due cerotti allora per molti anni era la combinazione preferita diciamo che c'è un chirurgo ortopedico che ho conosciuto della Svizzera quello che faceva con i suoi pazienti che avevano bisogno di un'artroplastica è di mettere il cerotto di glutatione nella parte esterna del ginocchio e l'ion nella parte interna del ginocchio e ha scoperto che aiutava a ridurre l'infiammazione e in questo modo quindi se dai un'integrazione di collageno a vitamina C le cellule staminali possono produrre un nuovo cartilagine e evitare l'artroplastica quindi per molti anni era diciamo la procedura standard il protocollo standard usare ion glutatione ion dietro al collo e glutatione sotto l'ombelico oggi adesso con il lancio di X39 le cose sono cambiate quindi direi che la combinazione perfetta è X39 ion per la maggior parte delle persone a me non che vogliate creare massa muscolare ma X39 ion per la maggior parte delle persone è una combinazione fenomenale ma come alternativa si può usare X39 glutatione durante il giorno e il cerotto di ion la sera a usare ion la sera va molto bene perché rilassa il sistema nervoso e migliora la qualità del sonno e anche un effetto antinvecchiamento io credo che abbiamo tempo ancora per una domanda hai parlato del collagene hai parlato dell'integrazione con il rame quindi che tipo di integrazione di rame suggerisce anche di collagene allora per quanto riguarda il rame ci sono molti tipi di integratori di rame che sono sul mercato oggi 2 milligrammi 2,5 milligrammi di glicina di rame va benissimo ci sono una serie di prodotti la cioccolata la cioccolata fondente ci sono degli studi clinici che suggeriscono che se si prende cioccolata con il cacao il 75% in più migliora la salute la cioccolata è una risorsa una fonte di rame quindi 2,5 milligrammi di glicinato di rame come integratore andrebbe bene e il rame ha grandissimi benefici per la salute invece il collagene questo è un argomento molto interessante per alcune persone una fonte naturale quella animale per altre persone non vogliono prendere supplementi a base di proteine animali e oggi c'è per esempio il collagene marino e questa è un'alternativa valida e non è sempre necessario prendere un'integrazione di collagene non è sempre necessario io direi all'impressione di provare vari prodotti per due mesi e capire se il corpo risponde controllare un po' la situazione la chimica è diversa da persona a persona lo stile di vita le abitudini eccetera io e mia moglie stiamo cercando di mangiare un po' meglio negli ultimi due mesi e noi siamo andati a fare la spesa e ho visto la cioccolata e mi sono ricordato che David dice che bisogna mangiare cioccolata fondente è stato è anche un piacere sì bisogna mangiare la cioccolata che riduce c'è uno studio che è venuto fuori ieri per le persone che sono sovrappeso e diceva se siete molto grasso a diminare la cioccolata vi protegge dal diabete io ho detto no ma no non può essere questo è un altro tentativo dei laboratori farmaceutici di venderci farmaci per perdere peso noi dobbiamo esaminare le cose con prodotti naturali come il cacao che ha questi benefici enormi per la salute salute il succo di melograno il succo di melograno che si prende giorni che ha molto zucchero io raccomando un estratto per esempio il succo di melograno può invertire quasi completamente le malattie cardiovascolari adesso che alla nostra convention parleremo del cuore è uno degli argomenti di cui parleremo ma i complementi naturali sono molto potenti se li usiamo nel modo giusto quindi mangiate cioccolata cioccolata olio d'oliva eccetera non abbiamo più tempo grazie grazie per aver condiviso la tua saggezza c'è qualche altra cosa che vuoi dire prima di concludere la call beh io vorrei di nuovo ringraziare la comunità per un mese di luglio incredibile ci sono una serie di eventi in futuro nei prossimi due mesi e soprattutto la convention di ottobre sarà straordinaria io porterò delle tecnologie del laboratorio e le mostrerò per la prima volta e c'è solo una persona abbiamo più di 325 dipendenti adesso e c'è soltanto un'altra persona dell'azienda che conosce questa tecnologia io non ho parlato con nessuno neanche con te Jeff e veramente non vedo l'ora di mostrare le nuove tecnologie su cui stiamo lavorando sarà straordinario io non vedo l'ora che arrivi questo momento grazie grazie ancora una volta grazie per stati con noi stasera ci vediamo la prossima volta arrivederci a tutti grazie 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 a tutti Thank you, everybody.